Ciao ragazzi, qui è il vostro ARC che vi parla e si è quindi conclusa tutta quanta la beta di MW2. Ora i server sono chiusi, c'è stata anche una durata aggiuntiva di circa 2 ore per far giocare tutti quanti i player, far proprio strizzare tutte le ultimissime partite, prima di tornare purtroppo nei code precedenti tra cui MW219 e ovviamente Warzone, Cold War Vanguard e tutto, mentre aspettiamo il lancio ufficiale di MW2 che è comunque circa un mese di distanza. Vi ricordo che come sempre il 20 ottobre si giocherà già la campagna perché ha preordinato digitalmente il gioco. Ciò non toglie che tutto quanto il multiplayer andrà riprescato tra circa un mese. Quindi quali sono le opinioni conclusive per quanto riguarda quella beta, quelle mie personali, quelle della community e un pochino anche la risposta come sempre di Infinity Ward che ha fatto qualche cambiamento nel secondo weekend e presumo, o si spera, abbia un attimo riaccumulato tutto quanto il feedback e alcune cose possono essere cambiate direttamente al lancio del gioco di cui alcune cose hanno già state annunciate nel blog precedente che già abbiamo visto, altre invece hanno già state sistemate durante questo secondo weekend di beta, ma vedremo se appunto altro feedback aggiuntivo permetterà o invoglierà gli sviluppatori a fare altri cambiamenti ancora o fare comunque altri test. Dato che questo code durerà ben due anni, è chiaro che tutto quanto il supporto, il cambiamento di patch notes, aggiornamenti e simili sarà secondo me molto molto importante per fare in modo che il gioco sia in salute il più a lungo possibile. Parlando quindi di questo secondo weekend, perché dal primo ho già fatto diversi video che fossero di patch notes o opinioni, avevano comunque alzato il livello massimo a 30, quindi qualche arma aggiuntiva da poter provare, hanno aggiunto, se ricordo bene, una mappa a quelle 6v6, e c'erano alcune modalità molto grandi, 20 di denti e 32 contro 32, sull'app a Shahid mi pare si chiami, per invasione e guerra terrestre. In più hanno aggiunto anche postazione e fatto comunque diversi cambiamenti. Quello che posso dire è, sicuramente per quanto riguarda il meta delle armi, è tutto quanto ancora molto molto presto per discuterne, perché tutto il problema principale è il time to kill. Il time to kill di questo gioco è stranissimo, ci sono dei momenti in cui con un colpo ammazzi qualcuno, altre volte che gliene spari 12 alla schiena, questo si gira e ti ammazza e dici cosa è successo? In realtà l'ho beccato, c'era anche l'hit marker, qualcosa è andato storto. Questo specialmente con armi automatiche che hanno tanti colpi, già con l'armi colpo singolo invece è un pochino più stabile come cosa, molto spesso mi capitava di uccidere con un colpo in testa preciso preciso e due o tre al corpo, che comunque è corretto, già con metagliette o assalto, ho avuto momenti in cui servivano 15 colpi per una kill e altre volte che con due o tre colpi scarsi in testa o meno potevo sciogliere qualcuno. Stessa cosa me lo facevano anche i nemici che ogni tanto mi scioglievano, altre volte non mi uccidevano, potevo fare un fight un pochino più tranquillo, già non toglie che potrebbe essere un problema di hitbox dei giocatori o altre cose comunque risolvibili o modificabili. Passare invece alla questione dell'armi, a tanta gente non piace questo nuovo sistema di progresso per cui utilizziamo un'arma per sbloccarne altre e poi continuare a livellarle. Non è pessima come cosa perché ti fa provare sicuramente tante armi, anche diverse che di base non andresti a utilizzare e se vuoi magari quella che è l'arma molto forte non puoi avercela fin da subito, bisogna quindi utilizzarne un'altra a livellarla e sbloccare quella successiva dello stesso gruppo per poterla poi utilizzare. L'idea in sé non è pessima e comunque nel gioco c'è un menu per i progressi, anche se io stupidamente, come tanta altra gente, i primissimi giorni non avessi trovato assolutamente nulla a riguardo, quindi ho cercato su internet, quando in realtà c'è una schermata proprio nel gioco bella bella che però per quanto sia lì presente non è eccessivamente indicata, per cui secondo me sarebbe corretto anche soltanto sulle armi bloccate rimandarti magari al sistema di progressione che ti dice guarda vuoi quest'arma, livella quest'altra arma qui, quindi potrai utilizzarla. Ha secondo me un pochino più di senso ed un attimo più indicativo che per tante persone magari non ne capiscono assolutamente niente o come me sono abituati un pochino ai code vecchi in cui semplicemente livelli e sblocchi le armi. Sempre sul discorso armi il fatto che alcune fossero bloccate a livello 1 senza accessori è stato un pochino stupido. Se mi fai provare direttamente l'arma a quel punto fammela accessoriare anche perché alcune erano già disponibili nelle classi predefinite quindi potevano essere provate accessoriate mentre una volta che la sblocchi hai la versione stock standard senza nulla di sbloccabile. Quello mi ha dato molto fastidio per armi come il Fennec anche la Cappino che adesso qua è un assalto e anche il fucile d'assalto finale con la specie di scaracca simile a CR l'ho visto che c'è la versione base senza accessori e il progetto perché sbloccava a livello 30 tutto quanto della beta che si era decente ma non era un attimo come lo volevo io che magari voglio accessoriare in maniera leggermente diversa a qualcuno magari non piace il mirino comunque un pochino più di libertà che per quanto fosse la beta alcune armi erano probabili ma non al 100% e mi sembrava un pochino stupido. Oltre al fatto che alcune armi in realtà erano bloccate le abbiamo sbloccate con dei glitch tra cui il Lachman Assalto e l'MP5 che era Lachman Mitraglietta cosa che poi è stata risolta nel secondo weekend e tanta altra gente non poteva provare queste armi mentre io le avevo sbloccate ed erano perfettamente utilizzabili accessoriabili ed erano armi anche parecchio forti. Altra grossa discussione sono le mappe ho visto tante persone che invece erano davvero contente per quanto riguardava le mappe di questa beta a me personalmente purtroppo non è piaciuta neanche una quella del mercato è forse troppo lineare la zona centrale per cui è soltanto un fight a grandi linee quindi uno sta in fondo stramega camperato che sia con cecchino o assalto e non è glitch in fondo e camperato sul camper tante cose non si possono fare inoltre la spam di granate stordenti è allucinante e la casetta del camping detta anche la casetta della briscola è un pochino troppo strana magari già in modalità come postazione o dominio che è un pochino più dinamica perché la gente si muove in giro per le bandiere per fare uccisioni o altro non è pessimo ma mi sono capitate diverse partite in cui su sei nemici di una squadra cinque erano in quella casa a controllare ogni singola finestra ogni singola entrata va bene che state facendo il torneo di briscola però vorrei entrare anche io e giocare e non essere laserato sulla porta di entrata o anche 20 metri da una finestra perché uno è camperato col mirino e mi sta aspettando tutta la mappa a mercato anche la mappa a farm 18 non mi fa impazzire per la zona centrale che specialmente per certe armi come i pompa non permette assolutamente un fight alla pari per cui entri da una porta e sei completamente disintegrato c'è il tuo cervello sul muro e non si può fare molto altro sotto il discorso che in questo code come in tanti altri il primo che sta già mirando su una porta o un angolo ha sicuramente già vinto il fight la mappa del museo che se ricordo era disponibile il primissimo giorno della prima beta che infatti non ho giocato e poi rimossa per mettere quella dell'hotel c'è un motivo per cui l'hanno rimossa è troppo grande per un 6v6 il 9v9 forse ha senso ma per dire ci sono alcuni angoli della mappa in cui nessuno va che in realtà sono totalmente giganteschi ma mai utilizzati perché la mappa appunto è già troppo grande di suo figuriamoci utilizzare anche quelle zone che a parte impostazione non ho mai visto nessuno andarci infine la mappa dell'hotel mi è sembrata l'unica che forse si gioca decentemente dipende un pochino dalle partite dei giocatori che incontri ma è l'unica che ho ritenuto abbastanza decente o comunque che le partite che ho giocato erano quasi tutte nella media tante altre mappe come mercato farm 18 ho avuto partite in cui sono stato totalmente disintegrato e in cui fare una kill era anche molto faticoso e ovviamente soltanto la beta sono soltanto 4 mappe quindi è veramente presto non so quante mappe ci saranno nel gioco finale ma se saranno magari in tutto 12 o 16 c'è comunque secondo me molto potenziale passando ad un'altra discussione gigantesca all'interfaccia utente allora alcune cose sono state leggermente migliorate per quanto riguarda la visuale del giocatore le scritte, i simboli e altro Jonathan toglie che a quanto pare chi ha fatto questo sistema di interfaccia specialmente dei menu è lo stesso che ha fatto quello del sistema di streaming Hulu o una roba del genere per cui tutto quanto il sistema fa abbastanza schifo molti hanno detto per esempio che anche il sistema per gli accessori dell'armaiolo sembra quello di Code Mobile e concordo al 100% ci sono delle volte in cui le scritte o le icone sono fatte totalmente a caso o non proprio benissimo nuovamente è soltanto una beta quindi forse tutto sarà cambiato ma ricordiamo che questa beta è a un mese di distanza dal lancio finale quindi non è che mi aspetto dei cambiamenti veramente drammatici per quanto riguarda tutta l'interfaccia utente a meno che questa non fosse una versione veramente vecchissima del gioco che ci hanno fatto provare invece quella finale è totalmente diversa o già molto migliorata ciò non toglie che alcune cose sicuramente non fanno impazzire e alcune schermate non sempre sono molto intuitive come ho detto prima anche già la parte dei progressi era un pochino un casino e parlo io da giocatori di Code da più di un decennio immagino uno che è un pochino più casual e appena capisce come si fa una classe farebbe molta molta fatica quindi anche una questione di accessibilità per tutti quanti i giocatori o semplice comprensione generale l'altra discussione grossa di cui comunque già avevo parlato era per i perk e i potenzialenti da campo di cui comunque è cambiato veramente il giusto i perk adesso semplicemente si caricano leggermente più in fretta che ci sta ma continuo a non capire questo sistema di 4 perk anche perché se appunto il terzo e quarto perk adesso si caricano molto in fretta a questo punto damli direttamente tutti e quattro fin da subito rendi magari il terzo e quarto perk non troppo forti da necessitare appunto un tempo di carica che sia fantasma occhio di falco gioco di prestigio e queste cose o piuttosto soltanto tre perk e falli ben bilanciati infine i potenzialenti da campo a me personalmente fanno tutti schifo non ho trovato uno che fosse secondo me veramente efficace il radar portatile è così così e un tempo era una granata tattica anche l'infiltrazione tattica stesso discorso la cassa di munizioni è la stessa di vanguard l'esca confiabile secondo me è inutile altre granate sono soltanto fastidiose si ottiene veramente il giusto molti hanno parlato ovviamente di silenzio di tomba che qua è un potenzialento da campo come su mv 2019 e non è appunto un perk è stato anche cambiato una cosa veramente strana perché quando lo attivi fa un rumore per cui si dopo hai passi silenziosi ma subito prima qualcuno comunque ti può sentire continuano a dire che non lo vorranno cambiare come perk però molta gente vuole un sistema di gioco totalmente diverso se mettessero silenzio di tomba come quarto perk che appunto si carica molto più lentamente e ci vuoi di più ad averlo non fui da subito nel game secondo me sarebbe ben bilanciato e darebbe un pochino più di senso appunto a questo sistema a quattro perk soltanto quando il quarto perk è davvero forte e richiede tempo come appunto fantasma o sarebbe silenzio di tomba allora così vagamente ha senso sono sicuro che mi sto sicuramente dimenticando tantissimi punti di discussione generale che fosse per me personale con i miei amici che fosse della community sui social ciò non toglie che questo è il grosso che ho notato nelle mie ore di gioco della beta che in tutto a questo punto penso siano state forse una ventina contandosi al primo weekend su ps4 e questo secondo su xbox rx e anche da quel punto di vista sicuramente molto meglio sulle console next gen molto più risoluzione per vedere di più i nemici e capirci meglio e sicuramente i 120Hz sono molto molto graditi per cui le mie critiche precedenti ovviamente non erano al gioco ma il fatto che fosse limitato a una ps4 standard che specialmente oggi per i giochi recenti o moderni fa sicuramente molta molta più fatica è comunque perfettamente giocabile e molta gente giustamente ha ancora quella console ma io che possiedo la serie x e appunto ci ho giocato cold war e vanguard tornare indietro a una versione old gen mi ha fatto veramente molto molto strano e sono io che magari a questo punto sono viziato dai 120Hz e risoluzione aggiuntiva cosa che capita a molta gente che appunto magari o è su pc o è su console next gen e ti tocca tornarne alla versione precedente fa veramente molto molto strano e non sembra giusto per quanto tu abbia giocato in quel modo per circa un decennio a call of duty però quando hai fatto il salto in avanti il salto indietro è molto più doloroso in ogni caso ho raggiunto il livello massimo ho provato per bene tutte quante modalità postazione mi è sembrato molto molto giocabile ancora di più di deathmatch e dominio mentre le modalità grandi giocatori ne ho parlato a poco perché 20v20 e 32 contro 32 nelle mappe gigantesche ho fatto giusto un paio di game e non mi ci sono trovato assolutamente per nulla perché o non incontri nessuno per 10 minuti o entri in una stanza e c'è letteralmente un diciottesimo in cui ci sono 20 persone che si girano e ti guardano tipo ma tu non sei nella lista mi sa e ti laserano per cui è stata una cosa un pochino strana e poi essendoci soltanto una mappa tutto era molto molto ripetitivo sono di altra gente invece che si è divertita veramente tanto in quelle modalità quindi come sempre è a scelta e opinione personale che ci sta tantissimo quindi ragazzi attendiamo tutto quanto il lancio finale di mv2 devo ammettere che come ho detto altre volte le mie aspettative erano molto più in basso per quanto riguarda questa beta mi sono comunque divertito non è stato male non è che sia il cod la beta più bella degli ultimi 20.000 anni ma comunque molto più giocabile di quanto avessi previsto nonostante problemi come sempre di skill based matchmaking di sconnessioni dai server e altre cose che sono problemi classici di code degli ultimi anni bisogna un pochino sopravvivere a queste cose per adesso sono curioso del day one cercherò di giocare il multiplayer e aspettiamo poi gli altri contenuti tra cui Warzone e DMZ di cui discuteremo sicuramente per molto molto tempo proprio a riguardo voglio sapere le vostre opinioni per chi ha giocato questo secondo weekend che è la primissima volta che giocava o continua a giocare questa beta per chi ha giunto il livello massimo se è stufato molto prima e se appunto questa beta vi fa confermare o annullare il vostro preorder per Mv2 o quantomeno modifichare la vostra attenzione in positivo o in negativo verso questo gioco il video quindi si concorde qui spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto descrizione come sempre tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram Twitch anche il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio a